Maestro ho spento il pernacchio come diceva lei Remember ancora lo stupendo titolo della volta scorsa che abbiamo registrato Tu sei troppo bassa per me, fantastico maestro Questo invece è, un attimo maestro mi devo avvicinare No maestro, anche perché noi dobbiamo sempre continuare a produrre Mai fermarsi, perché la gente deve conoscere fino in fondo dove stanno le nostre disgrazie Bene maestro, vogliamo sentire prima mattina come si svolgerà la nostra giornata Allora, prego 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.